Nicola Spinelli, quanto è importante per la memoria storica di San Pietro aver scritto questo libro? Abbastanza, praticamente è una base. Spero che in futuro si possa approfondire di più la ricerca storica per la storia del paese. Quindi diciamo che è un inizio. Sindaco, quanto è importante questa iniziativa, cioè da parte del Comune far crescere l'attività culturale a tutta la comunità? Insieme all'agricoltura e al turismo è il terzo pilastro su cui noi ci dobbiamo muovere. Credo che tutto quanto il territorio abbia bisogno di promuovere iniziative di questo tipo perché vanno a vantaggio di tutta quanta la collettività e dobbiamo ringraziare per questo cittadini come Nicola Spinelli che in maniera del tutto gratuita dà un contributo sostanziale alla riscoperta di quelle che sono le fonti storiche che hanno connotato i nostri paesi. Senza il suo contributo si perderebbe sicuramente la memoria di tante tradizioni, di tanti episodi, di tanti fatti che sono successi in questi territori tempo addietro. Assessore Bagliarulo, un bilancio dell'edizione 2011 di San Pietro e Venti? Un bilancio positivissimo, sono rimasto contento insieme a tutta quanta l'amministrazione per ciò che è accaduto in questo mese di agosto, in questo periodo estivo, siamo rimasti contenti, un grazie alle associazioni che hanno collaborato con noi, un grazie a tutti i cittadini che ci sono stati vicini in questo calendario e venti 2011 per la prima volta proposto qui a San Pietro e Altanagro. Elio Pegora, in una società come quella attuale ancora ha qualche valore la poesia? Direi proprio di sì, anzi ha più valore di un tempo, ci credo profondamente e lo vado dicendo in tante scuole italiane. La poesia è un'educazione ai sentimenti in un tempo in cui i sentimenti sono stati in qualche modo dimenticati, trascurati, i pesi. Dico educazione ai sentimenti perché la poesia sveglia la vita, fa vedere quello che noi non vediamo o lo fa vedere meglio e lo fa vedere con le parole, con delle parole esatte, mai bugiarde, perché devono essere delle parole oneste che vengono dal profondo e questo significa risvegliare un linguaggio che abbiamo invece svenduto alla politica, all'affare, al commercio, eccetera, eccetera. Questo significa pensare meglio, vedere più chiaramente, esprimersi meglio e soprattutto fare i giovani molto prezioso. Certamente c'è una desuetudine a questo perché gli ultimi decenni hanno trascurato ancora la mia generazione nella prima infanzia che ho avuto qui a Sant'Artenio, dopo sono nato, ho imparato molte poesie a memoria. Sta tornando questo in molte scuole italiane. La poesia a memoria significa educare l'orecchio alla musica della parola e quindi far poi riflettere su quello che la poesia dice e quindi risvegliare qualcosa che ci portiamo dentro perché la poesia è tale se parla a tutti e quindi pian piano noi ribelliamo a noi stessi quello che la poesia ci dice. E io in maniera molto ingenua nel film Il Postino, Massimo Truisi pone una domanda a Pablo Neruda. Io in maniera altrettanto ingenua la pongo a lei, ma come si fa a diventare poeta? Forse è un dono, certamente è così, è una vocazione, si scopre da bambini. A me è accaduto proprio dalle poesie che imparavo a memoria, poi ad un certo punto avendo amato tanto la lettura che continua ad amare alla mia età, ho voluto anche io fare quello che facevano i poeti o gli scrittori, cioè scrivere, usare le parole per scrivere e questo è diventato poi un lavoro se vuole, cioè un esercizio quasi quotidiano, un'attenzione profonda a me stessa e al mondo che avevo intorno per raccontarlo, per dirlo, per consegnarlo agli altri. Quindi c'è questa volontà innanzitutto di esprimersi con le parole, di dar qualcosa agli altri, di quello che si sente dentro e di riuscire a dirlo grazie a un'attenzione, a una fatica, una fatica su se stesso e su quello che si vede.